L'alternanza scuola-lavoro ha pieno titolo nella cooperazione sociale, in particolare con la Formica. Abbiamo assistito al progetto dell'Einstein, di a poco concluso, e adesso di nuovo si è riproposto un altro progetto con l'Istituto Economico Balturio. Non è la prima volta che questo istituto collabora con la Formica. Pietro, questo progetto come è strutturato questa volta? Allora, questa volta il progetto è stato strutturato in maniera diversa perché mentre hanno passato, diciamo, abbiamo fatto noi due lezioni a scuola e in mezzo, fra le due lezioni, i ragazzi hanno lavorato. Questa volta si è preferito concludere il progetto proprio qui alla sede. Quindi ho fatto io una prima lezione all'inizio di maggio, poi i ragazzi per circa 15 giorni hanno lavorato a casa e poi sono venuti qui. La cosa interessante di quest'anno è che per la prima volta questo progetto, che fino all'anno scorso era un progetto più di testimonianza nostra e di comunicare la nostra esperienza di cooperatori sociali alla classe, quest'anno si è collocata in pieno dentro l'alternanza scuola-lavoro anche dando una valutazione ai ragazzi, sia come gruppetto di ragazzi e poi successivamente i professori daranno un voto anche sui singoli ragazzi. Quindi anche la nostra responsabilità è aumentata, ci sentiamo fieri di essere stati coinvolti da una scuola così importante come il Valturio di Rimini in un progetto così importante come quella dell'alternanza lavoro, con anche un compito così importante di dare una valutazione ai ragazzi. La valutazione è stata fatta sui loro lavori perché quando io sono andato in classe gli ho spiegato in particolare le cooperative sociali, ma in realtà la classe è stata divisa in quattro cooperative, due sociali, una cooperativa sociale tipo A, una cooperativa sociale tipo B, una cooperativa di produzione, lavoro e servizio e una cooperativa di consumo. E in questi 15 giorni a casa i ragazzi devono sviluppare tutta la documentazione necessaria per il primo anno di vita della cooperativa, quindi dall'atto costitutivo allo statuto, a definire i primi organi sociali, quindi il primo CDA, il primo presidente, il primo vicepresidente, lo sviluppo di almeno tre attività e il piano economico relativo. Hanno prodotto loro tutto il materiale, il materiale è stato visionato da me e la vicepresidenta cooperativa, la Mirca Renzetti, e da sei professori come commissione esaminatrice e poi sono stati questi, quindi la valutazione ha portato a dare un voto sulle quattro cooperative, quindi sui quattro gruppetti. Abbiamo assistito alla presentazione, alla relazione che i ragazzi hanno fatto in classe davanti alla commissione, sono emerse tante cose interessanti, i ragazzi hanno lavorato bene. La cosa però trasversale che abbiamo potuto vedere anche dalle interviste fatte ai ragazzi, quindi che hanno dichiarato loro stessi, è stato lo scoprirsi un po' cooperatori, nel senso che fra di loro hanno imparato a lavorare insieme. Sì, questo è l'aspetto più bello, perché era la base di questa simulazione, che sembrava un gioco, ma forse anche col fatto che i ragazzi sapevano che poi c'era una valutazione e si sono impegnati, ma si potevano impegnare in realtà essendo un gruppetto di sei, come sei singoli. Invece hanno capito tutti che dal lavoro dell'uno dipendeva anche il buon esito del progetto comune, e quindi si sono divisi a coppie, in due o tre gruppi, e hanno lavorato molto insieme. Questo è stato riconosciuto in maniera importante che dagli altri insegnanti, che avendo la classe da diversi anni, facendo diverse prove o diversi lavori con i ragazzi, hanno detto che forse per la prima volta i ragazzi sono riusciti a lavorare bene in gruppo. Questo ci dà molta soddisfazione come cooperatori, perché è chiaro che ci sentiamo di dire che abbiamo messo forse il primo semino per i futuri cooperatori del domani. Non penso che di tutti i 24 nasceranno 24 cooperativi o 24 cooperatori, però penso che alla fine i ragazzi, a parte la valutazione, resterà un bel ricordo di aver fatto qualcosa di concreto. L'altra cosa che mi ha stupito è che, anche se era una simulazione, quindi era il confine tra la realtà reale e la fantasia, la cosa interessante è che si sono messi in gioco anche, facendo delle scelte economiche importanti in una cooperativa, un socio ha verso disposizione un suo ristorante per sviluppare l'attività. Interrogato su questo ha anche motivato pensando che era giusto mettere un bene proprio per il bene comune della cooperativa. Quindi anche questi aspetti, che erano solo stati tratteggiati da me, loro li hanno condivisi e li hanno poi messi a disposizione. e poi chiaramente era una simulazione.